benvenuti nella quarta lezione di full white in questa puntata di questo corso parleremo dei trattamenti sbiancanti e dei difetti dello smalto e di come questi vadano in relazione tra loro ovviamente ci tengo a precisare che questo non ha la pretesa di essere un corso intensivo sui difetti dello smalto che meritano di essere approfonditi in sessioni ben più ampie ma vogliamo proprio concentrarci su quelli che sono i difetti dello smalto e come possono essere gestiti con i trattamenti sbiancanti voglio parlarvi ora di quella che è la combinazione di trattamenti sbiancanti e resini infiltranti come vi dicevo questo non può essere un corso intensivo sullo smalto ma voglio darvi alcuni elementi che possono essere utili nella pratica quotidiana come ho fatto finora con le abfrazioni trattamenti sbiancanti e resini infiltranti vedremo come sono due terapie che vanno molto in accordo tra loro le resini infiltranti hanno oggi raggiunto un grande utilizzo da parte di molti professionisti trovano la loro maggiore applicazione ad esempio sulle demineralizzazioni in questo caso in questo sorriso vediamo che ci sono sia delle lesioni già cavitate inattive e non mi riferisco a quelle mentre parlo di demineralizzazioni ma mi riferisco alle aree biancastre che possiamo intravedere a livello cervicale e interprossimale non alle lesioni già cavitate anche se sono inattive anche se sono stati assicosti naturalmente non alleggi ci s